in pochi minuti vi mostro come fare le castagne in tanti modi differenti iniziamo castagne al cartoccio dopo aver sciacquato le castagne le incido sulla pancia stando attento a prendere solo il guscio e al massimo la pellicina ma non il frutto poi le metto in una pentola con acqua abbondante e dal momento del bollore faccio cuocere per 3-4 minuti una volta scolate bene bene le asciugo mettendole in un canovaccio poi incrocio due fogli di stagnole e metto le castagne al centro chiudo formando così il cartoccio e metto a cuocere in forno statico già molto caldo per almeno 25-30 minuti a 200 gradi a fine cottura le tolgo e le lascio intiepidire per almeno una decina di minuti chiuse nel cartoccio ed eccole qui buonissime e si sbucciano in un attimo castagne al forno perfette incido le castagne sulla pancia e sul dorso senza intaccare il frutto ma solo la buccia e la pellicina poi salo l'acqua metto le castagne e dal momento del bollore faccio cuocere per 3-4 minuti dopodiché le scolo bene e le asciugo in un canovaccio poi le metto in teglia con la pancia rivolta verso l'alto e le metto a cuocere per 20 minuti a 180 gradi in forno già caldo statico poi mescolo e le faccio cuocere per altri 10-15 minuti a 220 gradi in modalità ventilata quando saranno pronte le lascio raffreddare in un canovaccio bagnato per 10-15 minuti ed eccole qui si sbucciano in un attimo castagne al cartoccio salate dopo aver sciacquato le castagne le incido sulla pancia stando attento a prendere solo il guscio e al massimo la pellicina ma non il frutto poi le metto in una pentola con acqua abbondante e dal momento del bollore faccio cuocere per 3-4 minuti una volta scolate bene bene le metto in un contenitore metto le foglie di alloro il rosmarino il sale il pepe mescolo incrocio due fogli di stagnola metto le castagne al centro chiudo formando un cartoccio e faccio cuocere in forno già molto caldo a 200 gradi modalità statica per almeno 25-30 minuti eccole qui mangiatele con salumi e formaggi castagne in padella col trucco del sale metto in ammollo le castagne per 20 minuti in acqua tiepida poi le asciugo bene in un canovaccio incido le castagne sulla pancia con la punta di un coltello stando attento a non prendere il frutto ma solo il guscio metto il sale grosso in padella sistemo e faccio riscaldare per 10-12 minuti in questo modo il sale avrà l'effetto dei carboni ora metto le castagne e le faccio cuocere 15 minuti poi le giro e le faccio cuocere per altri 15 minuti ora le tolgo e le faccio raffreddare in un canovaccio bagnato ecco qua guardate come sono morbide e soprattutto come si sbucciano e spellano facilmente castagne in padella col trucco della carta forno dopo averle sciacquate metto le castagne in ammollo in acqua tiepida per 60 minuti ora le incido sulla pancia con la punta di un coltellino stando attento a non prendere il frutto ma solo il guscio incise tutte le asciugo in un canovaccio metto le castagne in padella senza sovrapporle bagno un foglio di carta forno e lo strizzo leggermente copro le castagne e le faccio cuocere per 25-30 minuti mescolandole e bagnando la carta forno ogni 4-5 minuti quando saranno pronte le metto in un contenitore con della carta forno bagnata chiudo e lascio raffreddare per 20 minuti eccole qua guardate come si sbucciano e spellano bene e soprattutto quanto sono morbide castagne ubriache dopo averle sciacquate incido le castagne sulla pancia e sul dorso stando attento a non prendere il frutto ma solo il guscio e nel caso la pellicina poi metto in ammollo in acqua tiepida per almeno 30-40 minuti le scolo e le metto in teglia aggiungo il vino rosso e faccio cuocere per 40-45 minuti a 220 gradi in modalità ventilata a metà cottura le mescolo e a fine cottura le trasferisco in un canovaccio bagnato e le faccio intiepidire per una decina di minuti ed eccole qui si sgusciano in un attimo e sono buonissime castagne dolci al cartoccio dopo aver sciacquato le castagne le incido sulla pancia stando attento a prendere solo il guscio e al massimo la pellicina ma non il frutto poi le metto in una pentola con acqua abbondante e dal momento del bollore faccio cuocere per 3-4 minuti una volta scolate bene bene le metto in un contenitore aggiungo il burro la cannella lo zucchero di canna mescolo incrocio due fogli di stagnola metto le castagne al centro chiudo formando il cartoccio e faccio cuocere in forno già molto caldo a 200 gradi in modalità statica per almeno 25-30 minuti eccole qui si sbucciano in un attimo e sono gustosissime